ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo video è stato ripreso da una telecamera di sicurezza il filmato mostra alcuni operai durante un normale giro di controllo durante la loro ispezione gli operai si trovano di fronte a qualcosa di spaventoso una strana figura compare davanti agli loro occhi la stessa si butta letteralmente addosso agli operai che spaventati non possono fare altro che fuggire il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento il prossimo video è stato caricato su tik tok da una ragazza che racconta l'esperienza paranormale che avrebbe vissuto il padre il padre della ragazza che di mestiere fa il vigilante stava per entrare in un parcheggio per controllare se tutto era a posto ad un certo punto si sente l'urlo di una persona come se non bastasse le luci si spengono dopo qualche secondo si riaccendono e l'urlo continua il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento buonas noche se reporta una luz parpadeante nel estacionamento entre il sottano 1 e il sottano 2 e l'urlo di un quarto allà quede registro per il giorno di mattina 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 una guardia di sicurezza durante il suo turno di lavoro nota qualcosa di strano sul monitor mettendo bene a fuoco l'immagine si può vedere che all'improvviso si materializza quella che sembra essere la figura di una ragazza che si muove velocemente proprio davanti alla telecamera il video è davvero incredibile e impressionante ma andiamo a guardare il documento questa è una mujer vai 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 ma salio da una nave a vera salio da una nave Un uomo sente degli strani rumori provenire dalla cucina L'uomo va a controllare e nota dal vetro della porta della cucina una strana figura Simile a quella di una bambina L'uomo rimane lì immobile a riprendere quella strana figura Raccontando che anche lui ha dei figli tra cui un bimbo di 4 anni Il filmato mette davvero i brividi ma andiamo a guardare il documento Che andai su? Il filmato mette davvero i brividi ma andiamo a guardare il documento Da una telecamera di sicurezza Il filmato mostra un evento paranormale che si verifica in una fabbrica Dove vengono costruiti pezzi per auto Il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento E anche per oggi è tutto ragazzi Il video finisce qui Scrivete nei commenti quale di questi filmati vi è piaciuto di più Se c'è stato qualcuno in particolare che ha tratto di più la vostra attenzione Detto questo vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima Ciao 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 Ciao